Ma se facciamo un taglio grosso, dobbiamo aiutarlo a cicatrizzare? Occasione perfetta oggi, ho un ramo rotto in questo cotogno che sto recuperando. Andiamo a fare il taglio grosso. Ci metteremo il mastice? No, perché non mi fa respirare la ferita e fa accumulare umidità tra il mastice e la ferita, provocando malattie. Ci mettiamo invece la Propoli, un prodotto naturale che si appiccica facilmente alla ferita, la disinfetta e la fa respirare. È una soluzione acquosa che basterà spalmare con un pennellino direttamente sulla ferita.